Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi oggi il video è assurdo, assolutamente assurdo! Come avete letto nel titolo c'è un glitch, io l'ho utilizzato, che vi permetterà di ottenere in una maniera incredibile 3.000 V-Bucks ed il glitch è ripetibile, io ragazzi ne ho ottenuti 6.000! Ma parleremo ragazzi nel video di oggi anche della nuova collaborazione di Fortnite con UT! Probabilmente avete già visto qualche immagine direttamente dal Giappone, un nuovo brand si associa a Fortnite e ne vedremo davvero delle belle! In ultimo ragazzi tantissimi leaks, tantissime curiosità per farvi vedere anche tutti i retroscena e tutto il dietro le quinte di Fortnite! Voglio però prima ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice CREATOR XIUDERONE! Grazie di cuore ragazzi per sciopazzare di prepotenza nello shop! Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima... e vi devo... devo farvela ragazzi! Non sono riuscito a mettere i cuoricini ieri, magari li ho messi eh! Questo video l'ho registrato prima di farlo perché sono super preso con le doppie live, quindi grazie però per avermi commentato in tantissimi! La domanda di oggi è molto molto semplice ed è un omaggio a una skin che in tanti mi avete chiesto! Qual è il tuo stile preferito di pesce secco? Pesce secco che esce la prima volta nella season 7, scioppato da pochissime persone, dopodiché diventato una delle skin più apprezzate, una delle skin più ignoranti e apprezzate con tanti stili! Qual è il vostro preferito? Ragazzi il mio preferito è lo stile base! A me piace tantissimo il pesce secco classico proprio senza nessuna personalizzazione in base alle season! Ma quindi, ciancio le bande! E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere ovviamente una delle skin che fa un grandissimo ritorno! Questa alle mie spalle è la promo ufficiale Marshmallow X Fortnite! Come vedete torna per l'ultima volta probabilmente la skin di Marshmallow con il deltaplano, con il nuovissimo piccone doppio! Attenzione perché abbiamo già tutti il piccone di Marshmallow che ci avevano regalato nelle sfide appunto dedicate, ma oggi arriva invece il doppio piccone e il Mello Magli mi sembra che si chiami che fa esattamente lo stesso e odientico fastidiosissimo suono uguale al primo però è doppio! Ma la cosa un pochettino ragazzi interessante, torno indietro un attimo! Come vedete la skin rimarrà in game come c'è scritto qua dal 26 luglio quindi da ieri al 28 luglio quindi a domenica casualmente! E' esattamente il periodo che copre tutte le World Cup! Voglio farvi vedere un tweet molto interessante! Il signor Ninja manda un tweet! Can't wait to defend our Fortnite game with Marshmallow Music today! Ok, easy, non vedo l'ora di giocare insieme al mio amico del cuore Marshmallow ma ultima riga, looking forward to Sunday 2! E questa riga ha scatenato ovviamente l'inferno su tutti i siti e su tutte le community dedicate a Fortnite! Perché Ninja sta già guardando in avanti per domenica? Ma molti dicevano, magari semplicemente per il discorso della finale, però gli risponde in tweet il Marshmallow con gli stessi occhi! E qua, Marshmallow ci cova ragazzi! Non è che per caso stanno organizzando senza dire niente a nessuno per la chiusura delle World Cup un nuovo concerto virtuale con Marshmallow? Beh, le probabilità che ce ne sia uno sono abbastanza, le condizioni ci sono o magari semplicemente sarà fatto in real a New York! Non lo sappiamo, ovviamente staremo a vedere! Ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed è l'argomento che tutti stiamo aspettando ragazzi! Qua di fianco a me è gigante il logo dei V-Bucks, devo farvelo vedere però perché non posso spiegarvelo a voce! Come vi stavo anticipando, esiste ragazzi un glitch per ottenere 3.000 V-Bucks! Vi dico che non è gratuito, ma è assurdo ragazzi, è assurdo! Andiamo un attimo, andiamo un attimo, ve lo faccio vedere prima da qua e poi vi faccio vedere da là! Se voi andate sul sito, cioè ve lo faccio vedere dal sito che è più facile, aspetta un secondo! Se voi andate sul sito cdcase.com, ok? Affidabilissimo, andate tranquilli, è un sito come Instant Gaming, però non è uguale, ma è la stessa cosa! Se da questo sito, voi, nella barra di ricerca, cercate Deep Freeze, vedete che viene fuori il bundle del Deep Freeze! Ovviamente diviso per PC, Xbox, PS4 e Nintendo Switch! Attenzione perché potrebbe ragazzi già essere terminato, adesso è disponibile come vedete, guardate, si può prendere! Cosa succede? Se voi avete il Deep Freeze come bundle e ne acquistate un altro, e come vedete in questo momento è fuori al 52% di sconto, quindi a 13,79 euro vi danno 3.000 V-Bucks, se avete già il bundle vi danno 3.000 V-Bucks, se non avete il bundle vi prendete il bundle con 1.000 V-Bucks, ne acquistate un altro e vi danno 3.000 V-Bucks, ragazzi l'ho fatto io, ho l'account con 6.000 V-Bucks, me ne sono bruciati 3.000 abbondanti per, come si dice, per comprare tutto il set di Marshmallow, ma è assurdo, se considerate che 1.000 V-Bucks costano 9,99 euro, con 4 euro in più ve ne portate via 3.000. Ragazzi, non dico niente, io non invoglio nessuno a comprare, ma ragazzi, non capiterà mai più, una cosa del genere. Ma andiamo avanti senza neanche più gli slide, ma che cavolo ce ne frega a noi! Andiamo, ragazzi, direttamente nel nuovo argomento, la collaborazione con Fortnite più UT, che è praticamente quello che c'è scritto ovviamente di fianco alla scritta UT. Che cos'è UT? Non è niente di esagerato, è una delle linee di abbigliamento più importanti del Giappone, probabilmente, o della Cine, penso sia giapponese, non lo so io il giapponese, non me ne frega niente di saperlo. E, ovviamente, ci dovremo aspettare con questa collaborazione dei, delle nuove, dei nuovi outfit per noi, ovviamente, a tema di Fortnite. Due, in realtà, li abbiamo visti, uno dei due non sappiamo se sia qua, se sia già in collaborazione, che è quello che ci mostra Ninja in un'immagine proprio direttamente dalle World Cup. Bellissima questa, sembra una felpina a maniche corte, o semplicemente lui si è tirato su le maniche. Questa la voglio, se è disponibile da qualche parte, mi piace tantissimo. Quella, invece, che sembrerebbe essere la prima maglietta ufficiale, ce la fa vedere questo ragazzo sorridente con il photobomber dietro che fa un po' paura. E, come vedete, è una cagata, cioè, nel senso, sono tre lama uno sopra l'altro. Mi piace molto di più quell'altra che va a riprendere lo spray di un paio di season fa con i tre lama che ulunano alla luna. Quella è veramente bellissima. E quindi, ragazzi, aspettiamo di vedere comunque tutto un nuovo corredo da poter indossare, ovviamente, a tema di Fortnite. E chiudiamo, ragazzi, anche per oggi il video parlando della nuova emote che, secondo me, è uscita questa notte nello shop. Questo video è stato registrato, come vi ho già detto prima, la nuova emote che si chiama Kiss The Cup. Ve la voglio far vedere direttamente in un gameplay, perché nelle World Cup un ragazzo già la aveva, non chiedetemi il perché, ma eccola qua, ragazzi, con pesce secco che molto allegramente si va a baciare la coppa e la alza al cielo in segno di vittoria. Un'emote davvero molto, molto carina. Oltre ad essere molto carina, vi ricordo, ragazzi, che sarà un'emote unica. Non uscirà mai più nello shop. Un po' come il Guerriero del Mondo, quindi la skin femminile che è uscita ieri nello shop, che dovrebbe essere disponibile ancora oggi e che, vi ricordo, sono super, super esclusive. Beh, ragazzi, non mi resta che ricordarvi che oggi comincerà la finale delle duo nelle World Cup. Mi raccomando di guardarne 20 minuti per ottenere lo spray delle World Cup, ma domani, ovviamente, la finale indicherà il campione del mondo di Fortnite. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 8 in live. Ciao! iscriviti al canale.